Nell'ambito del progetto, dalle valli al mare, il Museo dell'Aciuga e delle Arti Marinare di Aspre e l'Anfiteatro Comunale di Altavilla Milicia sono stati per un giorno teatro del gusto. Il progetto è finanziato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea. Dalle valli al mare intende contribuire alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani, nonché educare le giovani generazioni ad una corretta alimentazione, informando le cirche riconosciuti ed eccellenti valori nutrizionali del pescato siciliano. Attraverso una campagna di promozione a favore del settore ittico siciliano e della propensione al consumo del pesce azzurro, si valorizza l'immagine del pescato locale e della gastronomia ittica siciliana. Oltre alla visita guidata al Museo dell'Aciuga e delle Arti Marinare di Aspre, diverse le attività progettuali proposte nel territorio. I seminari, cioè una campagna di informazione e promozione presso alcune scuole e siti di interesse culturale sulle qualità nutrizionali e organolettiche del pesce azzurro, sull'etichettatura e il confezionamento sulla sostenibilità dell'imballaggio. Show cooking, diverse esibizioni di cucina, animazioni gastronomiche e degustazioni di prodotti ittici che caratterizzano la dieta mediterranea e l'offerta della tradizione culinaria a base di pesce povero. Una mostra fotografica itinerante sul pescato siciliano. Straordinaria la disponibilità dimostrata dai dirigenti e dai docenti delle scuole coinvolte che prontamente si sono prodigati per contribuire alla buona riuscita di tutte le attività. Alto l'entusiasmo generale degli organizzatori e dei giovani intervenuti che hanno avuto modo di ampliare le conoscenze sul pescato dimenticato ma dalle eccezionali qualità nutrizionali, il pesce azzurro, il principe della dieta mediterranea.